Il 13 maggio 2012, testa della mamma, siamo a Paravati, all'incontro che ricorda la Cusca. C'è tantissima gente, ovviamente dalla Calabria ma anche da tutta Italia e anche dall'estero. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto del frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto del frutto del Tuo Seno, Gesù. Sta recitando il Santo Rosario. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto del frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto del frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essere l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto del frutto del Tuo Seno, Gesù.